Gli Aretini Rampanti sono una start-up di giovani da 14 ai 99 anni che vogliono dare dei contributi e delle idee fattive all'amministrazione comunale in modo tale da poter creare una comunità più partecipata e inclusiva. Si chiama Aretini Rampanti ed è una nuova associazione formata per la maggior parte da giovani che ha deciso di presentarsi alla città nella giornata per la giustizia sociale. Non siamo una lista civica, non siamo un'associazione politica, non siamo un partito, quindi siamo solamente tanti ragazzi vogliosi di dare dei contributi concreti attraverso degli eventi culturali e non per riuscire a dare una visione diversa e per aprire e attivare un dibattito concreto sui problemi. Partecipazione, giustizia sociale, sostenibilità ambientale, trasparenza e responsabilità nel dibattito e nelle scelte della città i principali obiettivi dell'associazione che al momento conta 20 unità, restando aperta a tutti coloro che ne condividono la visione. Vorremmo dare un contributo fattivo ad alimentare quello che è un dibattito, una forma di pensiero diversa rispetto a quelle che possono essere messe in campo da tanti colleghi che chiaramente vogliono contribuire a questa comunità. È chiaro che giovani, tecnici, che sono specifici per ogni settore, quindi ognuno di noi siamo circa 20 iscritti all'associazione, ognuno di noi per la propria specificità potrà dare un contributo tecnico al problema che potrà venire fuori. Suggestioni sintetizzate anche nel logo scelto. Noi vogliamo appunto rappresentare lo skyland della città con i monumenti principali e il loggiato del loggio Vasari che fanno da sfondo a Piazza Grande, volutamente aperto, trasparente, in modo tale che gli influssi dall'esterno possano entrare all'interno dell'associazione e che ci sia uno scambio proficuo. All'interno c'è il cavallino rampante, simbolo chiaramente di Arezzo, e il marchio di identificazione in primo piano dell'azienda Eorafe con il nostro codice di avviamento postale 50200. Tutto il logo ha un contorno, è ovviamente quadrato, ed è un contorno che richiama lo spirito dell'Arezzo Calcio, il logo dell'Arezzo Calcio. E quindi proprio perché le nostre iniziative vogliono avere influenze sportive, quindi ricreative, sportive, culturali ed economiche della città. Grazie.